Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale La protesta di una disabile che per andare a fare fisioterapia è costretta a salire con la carrozzina una rampa ripida nel centro commerciale di San Lazzaro La corsa Fanno Metaurilia Biglietto dell'autobus venduto a 50 centesimi in più rispetto al prezzo indicato sul sito la lamentela di una passeggera Anticipo d'estate rinviato per l'arrivo di una forte perturbazione che porterà su tutta la provincia piogge e rischio di frane e smottamenti Buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia apriamo con un servizio che come avete sentito nei titoli riguarda coloro che in carrozzina si devono recare a fare fisioterapia nel centro di riabilitazione del centro commerciale di San Lazzaro difficoltà per salire le rampe di accesso vediamo il servizio di Simona Zonghetti La normativa in materia di barriere architettoniche in vigore dal 1989 specifica che deve essere garantita l'accessibilità ai vari ambienti con particolare attenzione ai luoghi pubblici ancora oggi invece capita troppo spesso di imbattersi in edifici pubblici e privati in cui ci sono ostacoli che impediscono di raggiungere alcuni spazi accessi, ingressi, servizi igienici, ascensori altezze non fruibili per coloro che presentano un handicap motorio o fisico spesso si dimentica di considerare che esistono anche disabilità temporanee come una gamba o un braccio ingessato altri esempi classici di barriera architettonica sono scalini, porte strette, spazi ridotti oppure così come le rampe del centro commerciale di San Lazzaro troppo pendenti tant'è che chi utilizza delle stampelle preferisce addirittura passare per le scale sono ripide a tal punto da non riuscire nemmeno a spingere una carrozzina fino al piano superiore dove è situato il centro ambulatoriale di riabilitazione dell'Azur questa situazione va denunciata perché non è possibile che un disabile che deve fare una visita di fisioterapia si trovi l'ambulatorio in un primo piano dove è accessibile solo tramite due rampe lunghissime tra l'altro la carrozzina è un peso perché sicuramente se è una donna a dover portare la carrozzina non ce la fa l'ascensore purtroppo è chiuso perché bisogna andare di sopra a chiedere le chiavi quindi uno deve lasciare la carrozzina con l'anziana o con addirittura anche un ragazzino perché ci sono i ragazzini disabili deve lasciare la persona di sotto deve salire a chiedere di aprire la chiave per l'ascensore è una situazione del paese del quarto mondo solo se la sanità è questa non è una sanità che ci piace se è una sanità che dite che funziona non è vero e l'ascensore che è a disposizione solo dell'Azur e non di altri esercenti è anche molto piccolo e qualcuno non se la sente proprio di entrarci nemmeno la signora Sanderina è brutto è piccolino la carrozzina non si sa se c'entra quindi lei preferisce non entrare nell'ascensore? no invece quando percorre la rampa ha paura? eh beh come si sente? spera che in qualche modo possano risolvere la situazione? eh speriamo di sì a darci informazioni sull'argomento l'ingegner Rodolfo Cascioli responsabile patrimonio attività tecniche dell'area Vasta 1 praticamente questo è un ascensore dedicato al nostro servizio che è la proprietà dell'immobile noi siamo lì in affizio, in locazione abbiamo il nostro servizio fisioterapico in locazione in questo stabile però essendo al primo piano avendo problemi eh di barriere architettoniche la proprietà ci ha realizzato questo ascensore che è però dedicato al nostro servizio quindi viene attivato al bisogno cioè gli operatori sanitari quando arriva un disabile col quale hanno appuntamento lo sanno e gli attivano l'ascensore perché quando è stato si è provato anche a lasciarlo attivo eh ci sono stati dei problemi delle volte hanno trovato le porte forzate delle volte hanno trovato gente che ci andava dentro lì a San Lazzaro quindi è un ascensore che viene tenuto chiuso e viene attivato solo al bisogno quando un utente deve usufruire del nostro servizio il problema non è soltanto per salire ma anche per scendere ah per scendere è lo stesso io ti ho detto ho fatto una sudata io che insomma non sono grosso però insomma sono abbastanza robustino ma io mi metto nei panni di chi non ha purtroppo la possibilità di farsi accompagnare da un uomo e quindi è una situazione veramente di disagio sul disagio come hai detto prima avete sentito oltretutto diverse lamentele sì anche quando eravamo appunto per la visita tutti gli anziani che erano lì perché effettivamente chi ha bisogno del fisioterapista di solito ha problemi di deambulazione sì può succedere che uno ha il gomito che non gli fa male ma soprattutto sul fatto della deambulazione quindi non possono camminare come si fa a mettere un ufficio un ambulatorio così irraggiungibile cioè questa non è a prossimità quindi voglio dire sono delle colpe anche di gestione perché chi fa queste cose vuol mettere in difficoltà i nostri pazienti i nostri cittadini soprattutto i nostri anziani i problemi però non sono finiti qui perché questa piccola rampa d'accesso al centro commerciale di San Lazzaro molto spesso come ci raccontano alcuni testimoni non può essere utilizzata a causa di automobilisti che posteggiano lì davanti bloccando quindi il passaggio la segnaletica è tutta cancellata quindi sarebbe il caso di rifarla per bene magari farne evidenziare i cartelli e qui se vede niente uno arriva magari da fuori vede il buco e parcheggia su quindi le responsabilità sono diverse ci sono spesso le macchine davanti alla rampa? ci sono dalla mattina alla sera perché qui c'è il supermercato c'è e la gente come arriva parcheggia non è mai libero? non è mai libero anche per parcheggiare un posto non si trova neanche perché le macchine dopo si mettono come uno vuole però lì lo dovrebbero lasciare libero perché ci devono passare queste persone con queste carrozzelle perché le persone che hanno bisogno di entrare lì nella rampa per poter andare nei negozi a fare una visita a fare una fisioterapia e debbono porreni anche loro poter risolvere questa situazione perché non si può non possono andare avanti così e adesso occupiamoci di trasporti pubblici in particolare della corsa in autobus Fano-Metaurilia perché una nostra telespettatrice ci ha segnalato che il prezzo indicato sul sito dell'azienda è inferiore rispetto a quello reale vediamo Non riesco a capire il motivo per cui ai residenti di Metaurilia venga chiesto di pagare 1,65 euro per la corsa verso Fano quando le tariffe indicate sul sito web mostrano prezzi diversi vorrebbe una spiegazione alla signora Mariangela che ha inviato una mail all'azienda di trasporto pubblico Adriabus ma senza ottenere risposte Io denuncio il fatto che sul sito dell'Adriabus siano messe le tariffe come chilometro mentre in realtà ci fanno pagare come se fossimo oltre i 6 chilometri mentre questa fermata è a 4 chilometri e 800 metri dal capolinea L'ingegnere dell'Adriabus scontattato mi ha risposto che Fano è divisa in zone e quindi le tariffe vanno a zone Ora informazione corretta vorrebbe che questo fosse riportato anche sul sito ma alla mia richiesta di dove si trovino queste fantomatiche zone non ha risposto nessuno perché neanche il centralino dell'Adriabus sa la loro esistenza quindi io chiedo per gentilezza che venga fatta pagare la tariffa corretta che è 1,15 euro e non 1,65 come loro pretendono E la nostra redazione ha provato più volte nel corso della giornata a contattare telefonicamente il direttore generale di Adria Bus senza riuscirvi per cui attendiamo anche una sua ulteriore replica Hanno preso oggi servizio a Fano 7 degli 11 vigili urbani stagionali assunti dal comune per il periodo estivo altri 4 invece prenderanno servizio nei prossimi giorni e rimarranno fino al 15 di ottobre per integrare la carenza di organico del corpo di polizia municipale La presenza degli agenti è costata al comune oltre 160 mila euro contribuirà alla vicinanza e alla vigilanza sulle strade a garantire maggior sicurezza contro atti di vandalismo o furti E adesso parliamo di maltempo perché i prossimi giorni saranno giorni particolarmente difficoltosi da questo punto di vista perché in arrivo una perturbazione e c'è anche un'allerta meteo e allora noi come sempre per chiedere l'UMI ci rivolgiamo al nostro esperto Francesco Cangiotti che dovremmo avere in collegamento telefonico in questo momento Allora Francesco buonasera Sì buonasera Qual è l'evoluzione del tempo per le prossime ore? Sicuramente come ha accennato lei avremo a partire già dalla giornata di domani le prime avvisali di questo peggioramento che andrà concretizzandosi in maniera più decida nella giornata di venerdì questo perché arriverà un nucleo di aria un po' più fredda in quota e determinerà appunto questa ciclogenesi nei bacini italiani determinando appunto proprio per la posizione di questo minimo che si andrà a collocare poi nella giornata di venerdì tra le basse marche e l'Abruzzo condizioni di maltempo sul nostro territorio quindi per la giornata di domani avremo già dei primi rovesci anche a carattere temporalesco che nel pomeriggio interesseranno in particolar modo il settore collinare e anche localmente le aree costiere specie delle marche centro-meridionali poi nel corso della nottata e a partire soprattutto per la giornata di venerdì avremo piogge diffuse su gran parte della nostra regione che risulteranno piuttosto abbondanti proprio sull'area del pesarese del nord anconetano su queste zone potranno cadere nell'arco di 18-24 ore anche attorno agli 80-100 mm di pioggia quindi raccomandiamo di prestare la massima attenzione ai fenomeni anche di dissesto idrogeologico che potranno essere associati a queste condizioni di maltempo Bene queste perturbazioni sono nell'ordine della stagionalità o rappresentano un fatto eccezionale? Diciamo che sono dei tipici peggioramenti che riguardano il periodo primaverile ricordiamo che sia la primavera sia l'altunno rappresentano i mesi in cui abbiamo sul nostro territorio le maggiori precipitazioni quindi ecco diciamo che sicuramente sarà una perturbazione abbastanza intensa ma comunque relativamente veloce perché poi già nella giornata di sabato continueranno ancora queste piogge anche se via via tenderanno ad attenuarsi per poi avere un miglioramento più deciso a partire dalla giornata di domenica soprattutto dagli inizi della prossima settimana Bene, ringraziamo Francesco Cangiotti per le sue delucidazioni sul meteo e adesso parliamo di un intervento dei vigili del fuoco alcune sterpaglie sono andate a fuoco nel pomeriggio di oggi poco dopo le 17 in un campo adiacente da alcuni fabbricati in località Rosciano di Fano ad accorgersi delle fiamme un uomo che stava tagliando l'erba l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Fano ha scongiurato il propagarsi del rogo la pagina della politica la deputata del movimento 5 stelle Giulia Grillo sarà al Pinobar di Fano venerdì 22 maggio alle ore 21 per un incontro pubblico in cui si parlerà di sanità e di sociale Grillo sarà accompagnata dal candidato presente Gianni Maggi e dai candidati consiglieri della provincia di Pesaro e Urbino e parliamo di salute alcuni esperti dei disturbi del comportamento alimentare saranno a Fano per parlare di bulimia e anoressia vediamo sono patologie in continuo aumento e con elevato indice di mortalità la bulimia e l'anoressia rappresentano la prima causa di morte delle ragazze dai 12 ai 22 anni e sono sempre più frequenti anche i casi nei bambini saranno questi i temi al centro del convegno che si svolgerà giovedì 21 alle 15.30 nella sala di rappresentanza della fondazione Cassa di Risparmio di Fano all'incontro organizzato dalla sezione marchigiana dell'associazione di genitori Mifido di Teollus e dell'associazione ETA di Ancona con il patrocinio dell'area Vasta 1 saranno presenti maggiori esperti dei disturbi del comportamento alimentare sempre maggiore l'incidenza anche negli uomini soprattutto nell'adolescenza e anche nei bambini maschi dove si manifestano non certamente con il non mangiare ma con dei disturbi del comportamento che vanno tenuti sotto controllo senza terapia ovviamente anoressia e bulimia come tu hai detto sono certamente le cause più importanti meglio conosciute ma esistono anche altre forme non meglio specificate quella è la vigoressia che è quella che interessa dei giovani che fanno sport per ore e ore al giorno e che sono altrettanto importanti anche se forse meno gravi come esito di questo ne parleremo appunto in questo convegno di domani che vedrà la partecipazione della dottoressa Laura Dallaragione che è la principale esperta maggiore esperta del campo a livello nazionale è la responsabile del centro palazzo francisci di Todi ed è referente per il ministero per i disturbi alimentari e insieme a lei ci sarà la filosofa Paola Bianchini che appunto ci parlerà proprio della difficoltà e del coraggio di essere genitori noi appunto come associazione dei genitori affianchiamo e sosteniamo le famiglie che sono coinvolte in questa patologia che è una patologia devastante per il ragazzo o la ragazza ma anche per la famiglia e appunto perché queste spesso sono lasciate sole dalle istituzioni dalle istituzioni che non hanno finora almeno nelle Marche dato un regolamento delle linee di indirizzo su quello che devono essere tutti i vari setting terapeutici quindi tutte le varie fasi del trattamento da quello ambulatoriale fino a quello che riguarda il ricovero proprio residenziale riabilitativo chi parlerà di questo argomento di questo argomento appunto parlerà il dottor Piero Ciccarelli che è il direttore del servizio salute della regione Marche che si è impegnato personalmente con tutta l'equip dell'agenzia regionale delle Marche proprio alla realizzazione di queste prime linee di indirizzo marchigiane è purtroppo un problema quello dei disturbi alimentari sempre più presente tra i giovani nella nostra società bene cambiamo argomento parliamo di eventi e l'assessore al turismo Stefano Marchegiani ha chiarito alcune perplessità in merito allo spostamento degli spettacoli dalla Corte Malatestiana il vice sindaco ha sottolineato come l'ambiente della Corte dopo dieci anni necessitava di una revisione che avrebbe comportato dei costi mentre lo spostamento degli spettacoli nel cortile del Sant'Arcangelo restaurato di recente con fondi della scuola si presta in modo più funzionale consentendo più eventi rispetto ai sedici che sono stati fatti l'estate scorsa la Corte invece diventerà un luogo pubblico aperto tutto l'anno ai cittadini e ai turisti entro sei mesi poi verrà redatto un progetto per valorizzare il museo la Pinacoteca e i contenuti di epoca malatestiana e sempre in tema di eventi la Proloco di Fano ha presentato la ventisettesima edizione della Fiera Agricola vediamo qual è il nutrito programma Ascoltiamo la terra sarà una vera immersione nel mondo agricolo e rurale matrice essenziale di questo territorio la Fiera Agricola Fano Geo si presenta puntuale alle porte dell'estate con tutti i suoi eventi che da sempre richiamano operatori agricoli e appassionati ma naturalmente anche tanti bambini che come sempre con la didattica imparano a conoscere da vicino la campagna e il suo mondo sarà veramente una manifestazione piena e importante sul mondo dell'agricoltura che invitiamo tutti a visitare perché ci teniamo a sostenere questo nostro mondo agricolo da lì non sarà finita perché si apre la settimana della festa della mietitura che sarà al 30 e il 31 a Facinetto Park la novità di quest'anno è che la Proloco è riuscita a riunificare il suo dalizio con la festa della mietitura al Falcinetto Park quelli che facciamo effettivamente coltiviamo il terreno lavoriamo la terra produciamo i prodotti la fiera ha sempre invece sistemato più l'altro aspetto che è il mercato che è la vendita dei prodotti che sono i mercatini e sono fatte apposta per stare insieme e quest'anno ci riproviamo appuntamento quindi dal 22 al 24 per Fanogeo al Codma di Rosciano e dal 27 al 31 maggio al Falcinetto Park per la festa della mietitura e prima di concludere il nostro telegiornale vogliamo fare gli auguri all'atleta Giuseppe Ottaviani il pluricampione mondiale che risiede a Sant'Ippolito e che abbiamo avuto l'occasione di incontrare anche nel salotto di Dopocena Ottaviani che oggi ha spento 100 candeline nel 2012 ha stabilito un record del mondo vincendo 10 medaglie d'oro in un campionato mondiale master auguri quindi da tutto lo staff sia dalla redazione e da tutta Fano TV all'atleta Ottaviani complimenti per le sue 100 candeline ok questa era l'ultima notizia che riguardava questo telegiornale questa edizione di Occhio alla Notizia grazie per essere stati in nostra compagnia a seguire ci sarà uno speciale che riguarda il trionfo del carnevale l'evento che ha riguardato la scorsa settimana Fossombrone bene grazie per essere stati in nostra compagnia noi torneremo qui naturalmente se vorrete domani sera puntuali alle 20 e 30 buona serata l'evento che